terza terza seconda che terza ora ti prendi un tuvino seconda dai carico di terza terza fai venire in prima guarda che tu se voglio fare questo asso lì eh si eh è venuto magro questo qua lo faccio guarda quante marce c'ha? adesso malefaci che schifo figa adesso mi sa prendendo male il culo ragazzi con una mano andiamo via con l'accelatore ma che sesso ma che sesso guarda è piano è piatto allora ci vuole così tanto? lo faccio io? si ciccio apri la bocca spampi spampi apri la bocca vai 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 che mi fai perdere le cadute secondo me buongiorino io Anyway i i i i i i i Grazie a tutti.